Ben ritrovati amici di Passioni e ricette di Margi. Oggi vi presentiamo la ricetta per il pan di Spagna. Di seguito gli ingredienti. 3 uova 110 g di zucchero 50 g di farina 50 g di fecola di patate 10 g di lievito per dolci una bustina di vanillina un pizzico di sale e se avete anche la scorza grattugiata di un limone. Dopo aver separato gli albumi dai tuorli li montiamo aggiungendo però un pizzico di sale. iniziamo ad incorporare lo zucchero aggiungiamo anche la vanillina e continuiamo a lavorare incorporiamo i tuorli uno per volta uniamo le due farine e il lievito per dolci e incorporiamo setacciando la farina al composto di uova sempre un po' alla volta abbiamo imburrato ed infarinato una tortiera di 20 cm adesso versiamo il composto inforniamo a 170-180 gradi per 25 minuti circa per 25 minuti circa un po' alla prossima un po' alla prossima Grazie a tutti.